Ciao a tutti, siamo all'altra Corà, Piazza Bologna, sono sei fermate metro, quindi ci siamo allungati. Ciao a tutti, pronti per le europee? Sono elezioni fondamentali e non hanno solo una valenza europea. Non si tratta solo di mandare lì dei bravissimi candidati che abbiamo per andare a contestare questi trattati indegni che i politici hanno firmato e con cui ci hanno condannato, come diranno bene loro, come il fiscal compact che prevede che noi dovremmo ridare 50 miliardi all'anno, roba che non riusciamo a trovare 4 miliardi per l'Imu. Quindi ci stanno letteralmente svendendo, ma queste elezioni europee hanno anche e chiaramente una valenza politica importantissima. Noi le vinceremo e contesteremo questo ennesimo presidente del Consiglio non eletto. Siamo partiti da Monti, siamo arrivati a Letta, mentre Bersani sta ancora tentando di smacchiare lì il giaguaro. Letta che è riuscito a passare 7 miliardi e mezzo alle banche, altro che con un aumento di capitale di Banca d'Italia per arrivare a questo presidente del Consiglio, innesimo non eletto, che hanno una valenza politica se ne sono resi conto anche loro perché stanno ricorrendo a una manovra indegna, a uno spot tipo quelli di Berlusconi, questi 80 euro che non sono 80 euro. Perché, a parte che è già stato contestato che non ci sono le coperture, ma le coperture vengono ottenute in maniera fittizia, cioè andando a prendere da un'altra parte. Sono aumentate le accise, aumentano le tasse sui conti correnti, sugli interessi, sulle rendite finanziarie. Ma noi vi diciamo anche quello che sta accadendo nel Comune di Roma con questo bilancio indegno che ha varato la Giunta Marino e che verrà chiaramente approvato dopo le elezioni. Perché verrà approvato dopo le elezioni? Perché prevede un salasso per noi, un salasso da 250 milioni di nuove tasse. 90 milioni sono di tasi per l'aumento dal 2 a 2.5, 50 milioni di tassa di soggiorno, il resto sono ZTL, COSAP, parcheggi, si arriva a 250 milioni di maggiori entrate. Ora non ci vuole un genio per capirlo che 250 milioni diviso il numero dei romani fa praticamente 100 euro per ogni cittadino. Non solo. Sentivo prima che si parlava di patrimonio. Questo sindaco per ottenere i soldi, oltre il fatto che ha preso i 280 milioni dal Salva Roma per quest'anno, 315 per l'anno precedente, altrimenti col cavolo che lo chiedeva questo bilancio, venderà 250 milioni di patrimonio immobiliare. Sono 600 immobili. 600 immobili che appartengono a tutti noi. Anche in questo caso, facendo un rapido conteggio, si sta vendendo beni che valgono 100 euro per ogni cittadino. E poi si vanno a prendere, non so se tra voi ci sono dipendenti comunali, si va a prendere il salario accessorio per rimediare 6 milioni euro mese. Una cosa indegna perché significa portare persone che guadagnano 1.400 euro, se gli eleviamo 300 euro, significa portarle in uno stato di povertà. siamo in contatto con molti di loro. Alcuni non riescono a pagare l'affitto, alcuni non riescono a pagare il mutuo. L'asilo nido, non entriamo nel merito che c'è sul punto tra MEF e giunta del sindaco Marino, tra questo ricatto che c'è in atto, ma si vorrebbe fare diversamente. Per esempio lo si vorrebbe rimodulare se è un salario accessorio. Allora chi lavora bene prende anche 1.700, chi lavora male prende 1.100, ma soprattutto si dovrebbe fare dell'altro. Si dovrebbe cominciare a tagliare dai super manager che guadagnano 600.000 euro nelle società partecipate con dei bonus di 200-250.000 euro legati a criteri ridicoli, tipo la puntualità. La puntualità non può essere un criterio per attribuire un bonus. La puntualità è un obbligo contrattuale. Oppure dallo staff del sindaco, staff che costa 5 milioni di euro all'anno e che continua a prendere gaffa, tipo quella del comunicato di ieri in cui ha definito la comunità LGBT come dei diversi. Questo per quanto riguarda il capo ufficio stampa del sindaco. Abbiamo un'avvocatura che costa 6.600.000 euro all'anno, sono 23 avvocati. Questo per dirvi cosa? Che ci siamo resi conto che in questi mesi, con le tante proposte che abbiamo fatto, tipo quelle che ha annunciato Daniele dalla sua commissione, ma anche in consiglio, che questa politica, quando si tratta di tagliare gli sprechi, quando si tratta di tagliare gli sprechi con cui ha vissuto finora, gli sprechi nelle società municipalizzate, le tante persone che sono state fatte entrare, le clientele, gli appalti gonfiati, i supermanager, dirigenti, quadri impiegati che prendono superminimi a pioggia. La politica, quando si tratta di tagliare queste cose, ha le mani legate. Non possono farlo, chiaramente per motivi di consenso e di sprechi, ne abbiamo visti tantissimi. Abbiamo visto, allorché si è approvato il bilancio, e chiaramente questa giunta e la maggioranza, scusate, ha approvato, soltanto noi quattro abbiamo votato contro. Una società come Pharmacap, per dirvene solo una, una società che gestisce 44 farmacie, con cui ha perso in due anni 15 milioni. Vediamo Atac, una società che ha 12.000 dipendenti e soltanto 5.800 autisti, è un rapporto sballato, ci sono troppi amministrativi. Questo è l'effetto che ha prodotto la politica in questi anni, che ci ha fatto entrare migliaia di persone. Atac è una società che soltanto se recuperasse l'evasione che subisce, potrebbe quasi risolvere i suoi problemi di bilancio. Atac perde ogni anno 150, 200 milioni. Si incassa ogni anno 280 milioni di biglietteria, ma si stima che abbia un miliardo di passeggeri. Abbiamo fatto una mozione, quasi un miliardo di passeggeri, abbiamo fatto una mozione con Enrico, con Virginia, con Daniele, passata, per ridurre questi sprechinatac. Abbiamo detto mettiamo un tetto ai dirigenti, a quanto prendono, mettiamo un tetto, Grillo diceva 1 a 12, noi abbiamo detto 1 a 8. La mozione è passata, ma gli stipendi dei dirigenti stanno ancora lì. Abbiamo detto, visto che c'è un eccesso di personale amministrativo, facciamo una cosa, prendiamolo in una parte, mettiamolo a fare i controlli sui mezzi, in questa maniera recuperiamo l'evasione. Passata la mozione, ma dal 2 agosto ancora è inattuata. Potrei portarvi altri casi oltre le municipalizzate. Abbiamo parlato di patrimonio. Il Comune di Roma paga 100 milioni di euro all'anno per fitti passivi, nonostante abbia 60 mila immobili. Ci sono due affitti, in particolare due immobili, Via delle Vergine e Largoloria, su cui il Comune paga 15 milioni di euro all'anno. Abbiamo fatto una mozione per risolvere questi contratti. I contratti stanno ancora lì. Il giorno dopo è venuto a trovarci il titolare, perché la Milano 90 è Scarpellini, abbiamo pensato qua, ci sparano subito, insomma. È venuto con i suoi conteggi, l'abbiamo letti, l'abbiamo letti lì per lì, abbiamo visto che gli affitti costavano 30 euro metro quadro mese, roba che se andiamo a prendere un appartamento di 100 metri quadri, non lo paghiamo 3 mila euro al mese, quelli sono immobili da 21 mila, 17 mila metri quadri, il costo marginale dovrebbe ridursi. Così per gli impianti che ha citato Daniele, ci sono impianti sportivi, abbiamo visto, dati in concessione, sono regali a 4 euro al mese. Tutto questo per dirvi cosa? Che queste persone non sono credibili. Abbiamo provato anche, abbiamo fatto delle proposte, ma poi le tengono nel cassetto, tipo la proposta per rendere più serie queste commissioni, per fare in modo che per prendere il gettone si debba stare la metà del tempo, che le commissioni non siano in contemporanea. Non sono credibili, quando si tratta di tagliare gli sprechi con cui hanno governato finora, dimostrano di avere le mani legate. Una sola considerazione potrei farvi a riguardo. Come è possibile che un consigliere comunale, come è stato possibile nell'ultima campagna elettorale, spenda 140.000 euro per fare una campagna elettorale, o che candidati sindaci, che poi diventano meri consiglieri, abbiano superato il milione di euro. Alla luce del fatto che un consigliere comunale prende l'ordi al mese 2440 euro, significa non arrivare a prendere in 5 anni l'importo che hai speso per la campagna elettorale. Allora c'è inevitabilmente qualcosa sotto. Se è vero come è vero che noi quattro siamo entrati spendendo qualche centinaio di euro, cosa che si può fare, la politica può essere fatta anche gratuitamente, e invece pensano, a cosa pensano, pensano alle nomine. Lo abbiamo visto, il sindaco Marino si presentò in campagna elettorale dicendo adotterò procedure trasparenti. Scusate, mi ho detto di salire, io non ti voglio interrompere. Ma mi interrompo spintaneamente. Allora questo per dirvi o noi o loro. Non c'è verso. E questa volta vinciamo noi. Grazie.